A Natale siamo tutti più buoni, anche gli alti formaggi, protagonisti grazie alla creatività di Nicola Locatelli di un menù delle feste ricco e innovativo. Per imparare la ricetta del piatto speciale da portare in tavola a Natale, per divertirci tra un assaggio e l'altro insieme all'Apo de Carlo, per scambiarci gli auguri in allegria, l'appuntamento è alla Casa di Alti Formaggi, in via Roggia Vignola 9 a Treviglio, il prossimo 14 dicembre alle ore 18. Le tre DOP della Casa sempre presenti, siatelo anche voi. Tutte le informazioni sul sito.